Avete mai pensato di seguire Babbo Natale nel suo viaggio intorno al mondo? Con Santa Tracker di Google questo è possibile. Google Santa Tracker infatti ogni anno il 24 di dicembre permette a tutti quanti di seguire in diretta il viaggio di Babbo Natale intorno al mondo mentre distribuisce i suoi regali. Si tratta di un'esperienza divertente ma anche molto interessante dal punto di vista didattico in quanto non solo si possono vedere immagini di tantissime località ma anche tanti dati, informazioni e curiosità. In realtà Santa Tracker di Google si rifà a un'altra applicazione che è Norad Track Santa, un'applicazione che fin da lontano 1955 tutti gli anni il 24 di dicembre segue in diretta il viaggio di Babbo Natale. A differenza di quest'ultima però Santa Tracker di Google per tutto il mese di dicembre mette a disposizione dei suoi utenti una serie di giochi e attività interattive davvero molto interessanti. I giochi sono anche molto divertenti, alcuni li ho provati io personalmente e devo dire che mi sono divertito tantissimo come per esempio la possibilità di creare un elfo, di fare un selfie con Babbo Natale ma questi sono solo alcuni. Ci sono poi alcune attività molto interessanti dal punto di vista didattico come per esempio la possibilità di leggere degli ebook, la possibilità di partecipare a Escape Room, la possibilità di conoscere le tradizioni natalizie di tutti i paesi dell'Unione europea o di tradurre le parole del Natale in tutte le lingue del mondo ma particolarmente interessanti io ho trovato le attività di coding e programmazione. Ci sono infatti alcuni laboratori che permettono in maniera divertente e accattivante di approcciarsi al coding e anche all'intelligenza artificiale. Le attività e i giochi sono veramente tantissimi. Se vogliamo avere una panoramica di tutto quello che si può fare in questo sito possiamo cliccare qua a sinistra sui tre trattini del menu. Come vedete le attività sono davvero tante non resta che provarle. Oltretutto queste attività durante il mese di dicembre vengono aggiornate praticamente tutti i giorni anche se poi il culmine, l'attività più interessante è quella del 24 dicembre in cui si segue in diretta il viaggio di Babbo Natale. Ma andiamo a vedere alcune di queste attività, quelle per esempio relative proprio al coding e alla programmazione. Sono tre in particolare, la danza del codice, il laboratorio del codice e come vi dicevo Quick Draw. Vediamo subito come funziona il laboratorio del codice. Il laboratorio del codice propone una serie di attività partendo da un livello molto semplice per poi via via andare verso attività più complesse. Si può iniziare quindi anche con bambini della scuola dell'infanzia. Come vedete nelle prime attività si tratta semplicemente di comporre delle immagini. Poi però man mano che andiamo avanti viene chiesto di costruire dei codici sempre più complessi. Come vedete qui per esempio si iniziano a usare dei simboli. In questo caso dobbiamo aiutare Babbo Natale a raggiungere il regalo utilizzando queste frecce che come vedete utilizzano i punti cardinali. In questo caso siamo appena a livello 4 di 14 ma andando avanti l'attività diventa sempre più complessa. Quindi questo è il tipo di attività che possiamo realizzare con bambini dell'infanzia ma che poi possiamo continuare con bambini della scuola primaria e anche con ragazzi della scuola media. L'altra attività molto interessante che volevo farvi vedere invece è quella relativa all'intelligenza artificiale. Allora torniamo sul menu. L'attività è Quick Draw. In questa attività dobbiamo aiutare Tensor. Tensor è il robot di Machine Learning di Babbo Natale e lo aiuta a decifrare velocemente le lettere che riceve dai bambini di tutto il mondo. Per aiutare Tensor però a esercitarsi dobbiamo raffigurare con dei disegni le parole scritte nelle lettere mandate dai bambini. Si tratta di un'attività che a tratti può essere anche abbastanza complessa e che quindi si può proporre anche a ragazzi più grandi. È anche molto divertente ma vediamo subito come funziona. Quindi clicchiamo su avvia. In questo caso devo disegnare un regalo. Vediamo se sono abbastanza bravo. Ha capito che stavo disegnando un regalo. In questo caso invece mi chiede di disegnare delle luminari. Si tratta di un'attività che inizia già ad essere un po' più complessa. Vediamo se riuscirò nell'impresa. Ha capito che stavo disegnando delle luminari. Adesso mi chiede di disegnare un biscotto. Possono capitare anche richieste più difficili rispetto a queste. Ripeto si tratta di un'attività molto divertente a tratti anche complessa che quindi può essere proposta anche con ragazzi più grandi ma è un modo sicuramente divertente avvincente di spiegare per esempio il funzionamento dell'intelligenza artificiale. Come vi dicevo questi sono solo alcuni esempi. Le attività su Santa Tracker di Google sono davvero tante e vengono aggiornate tutti i giorni per tutto il mese di dicembre. Ma come vi ho già detto sicuramente l'attività più interessante è quella che riguarda il viaggio di Babbo Natale. Quindi il consiglio che vi posso dare è di condividere questo sito con i vostri alunni il 24 dicembre per permettere a tutti quanti di seguire la diretta del viaggio di Babbo Natale intorno al mondo.